Ups a tutti i miei cariopsini e upsine, come 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 state? Spero bene, dai. Allora ragazzi, mettetevi comodi, sedetevi come sono seduto io, anche sul pavimento, va bene? Che devo dire un po' di cosette. Allora, come vedrete, non sono a casa mia dove registro tutti i video, no? Ma sono in hotel, in un hotel qua a Rimini, dove appunto accetta i cani. E lo stesso dell'anno scorso che ho fatto il weekly vlog, non so se ve lo ricordate. Spero di sì. Quindi, non ci sarà molto silenzio, purtroppo. Io cercherò comunque di rimuovere le parti un po' troppo rumorose, però mi sa che per questo video devo andare così. E perché altrimenti non so cosa fare. Quindi, è così, mi dispiace. Comunque sì, come avrete sentito, io sono qua a Rimini. È carina però, sta ripresa mi piace. Come ho detto, sono qua a Rimini. L'hotel si chiama Miraggio. Perché qua a Rimini ci sono tipo due o tre hotel che accettano i cani. E quindi è un po', un po' difficile. E abbiamo anche tipo il lido. Quello con tutti i recinti. Con poi dentro ombrellone, tre lettini. Anche il lettino per il cane. Quello che è così. E quindi, po' dai, è bellino, è carino qua. Le mie condizioni sono le stesse. Ho i capelli che sembro un pazzo e una canottiera perché... perché sì. Anche se, secondo me, mi sta malissimo. Ma io devo solo andare al mare. Perché non voglio sporcare dei vestiti puliti, ecco. Cioè, è anche molto più belli che ho portato però, vabbè. Li metto appunto tipo la sera quando usciamo a farci una passeggiatina tra le viuzze. A vedere le bancarelle. Le solite cose che facciamo tutti al mare, ecco. Devo anche farmi le sopracciglia. Vabbè, no comment. E niente, dai. Questo video non so quanto sarà lungo. Perché sono proprio impossibilitato. Cioè, perché c'è proprio casino qua. E comunque, po'. La camera anche è la stessa dell'anno scorso. Però, però, il bagno che è tipo qua, alla mia sinistra. Che però, sì, alla mia sinistra perché anche per voi è la sinistra. Visto che sto registrando specchiato. Lo hanno tipo restrutturato tutto, no? È tipo molto, molto, molto più bello di com'era. E meno male. Quindi, sono qui appunto per provare, comunque, rilassarvi. Perché la fine del video, ora vedrò quanti minuti, perché non lo so. Metterò un video del mare, delle onde del mare, con il rumore sotto. Con il suono, con il bel suono del mare sotto. Che secondo me può essere molto rilassante, capito? Secondo me, secondo me sì. E quindi, tipo. Io sì, sono seduto qua per terra. E niente. I miei genitori, con mia sorella, Ekira. Che è il mio cane, perché per chi non lo sapesse. Ho un golden retriever. Sono già andati in spiaggia. Perché la spiaggia ha tipo degli orari, no? Quindi, per le otto mi sembra. O un po' prima, o un po' dopo. Non mi ricordo molto bene. I cani non possono poi dopo andare in acqua. Capito? Quindi tipo dalle sette alle otto, per dirti. Adesso non mi ricordo bene gli orari precisi. Comunque, 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 comunque. E spero comunque vi piaccia. Questo è... Mi ammollo a schiena. Comunque. Ho detto troppe volte comunque, quindi basta. Voi siete già andati in vacanza? Nei mesi scorsi? Perché questo video uscirà il primo giovedì di settembre. Intanto ringraziamo il frigorifero qua dietro, che si è appena acceso e deve fare rumore. Comunque. Io sono qua in vacanza ad agosto. Quindi lo vedrete un po' di tempo dopo. Quindi siete andati in vacanza? Immagino di sì. A meno che non ci andrete a settembre. Perché chi dice che magari non ci andate a settembre? Raccontatemi dove siete andati. Se vi è piaciuto? Cosa avete fatto? Perché io domani, se non sbaglio, dovrei andare all'acquario di Cattolica. E vedrò un po' come ecco. Quindi dai. Così sono felice. Se non siete andati in vacanza, cosa normalissima, 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 normalissima. Raccontatemi cosa avete fatto, magari a casa, seppure siete andati, non lo so, raccontatemi un po', dai. Che tanto io i vostri commenti li leggo tutti, 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 tutti. E' un po' difficile per me registrare perché ho qua che è la telecamera, però a me viene da guardare di qua che è lo schermo dove ci sono io, no? Quindi è un po' difficile. Allora, resto qui ancora con voi qualche, qualche piccolo minutino, se riesco. Giusto il tempo di augurarvi comunque una buona notte perché anche se questo video sarà più corto del solito, più rumoroso del solito, più tutto del solito, ho comunque voluto registrarlo per voi. Perché per farvi capire che comunque io vi penso sempre e anche quando c'è casino, come in questi casi, che vorrei ucciderli tutti, provo comunque a registrare. Quindi, adesso, tre, due, uno, inizierai a sentire il suono delle onde in medio del mare. Va bene? Quindi un bacio. Grazie. 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 Grazie.